Musica Beh ragazzi com'è anche bentornati a questo nuovo di Pokémon 2 So per dire di Minecraft, sono abito a dire Minecraft Comunque siamo in un nuovo gioco ragazzi per telefono Perché probabilmente è una delle prime volte che porto un gioco per telefono Senza contare Clash Royale che comunque lo giocavo sul computer E ragazzi siamo qui con Pokémon 2 che è davvero un gioco molto molto figo Che è davvero molto simile al Clash Royale che ho citato prima ragazzi Quindi vedete anche un po' una grafica un po' diversa dal solito Per esempio non guardo mai in webcam o con tipo schermo Perché comunque guarderò il mio bellissimo telefono che avrete tipo qua a fianco Non so dove ancora ragazzi però comunque fa niente Ci torniamo in questo nuovo gioco e spero che io stia registrando dal telefono Spero, spero, speriamo di sì rega in qualunque caso Comunque buongiornissimo Oggi giocheremo questo bellissimo gioco che tratta praticamente Stile Clash Royale dove abbiamo delle pedine con sopra dei Pokémon Che hanno vari movimenti tipo a modo di scacchiera Cioè è per questo che assomiglia molto a Clash Royale Perché comunque Clash Royale è un gioco molto tattico Anche adesso è fatto a carte Qua è fatto a pedine E tu muovi i giocatori a modo di scacchiera Ecco ragazzi Comunque come vedete è molto simile a Clash Royale Perché ci sono anche i bauli tipo questi qua qua sotto Che adesso vi sto indicando Ecco tipo questo qua è diciamo il baule grigio Quindi questo baule qua si aprirà tra 47 minuti Poi c'è un baule d'oro Che si apre tra 12 ore E poi un altro baule argento E qua c'è un baule più uno Che non capisco cosa sia Se si può scioppare rega Se arriviamo per esempio a un 1000 bar a 1500 mi piace Secondo me Oltre che a capire se supportate la serie e il gioco Magari perché comunque è una cosa nuova Poi mi chiedete ogni tanto di portare cose diverse a Minecraft Potrei magari scioppare qualcosa Non so adesso quanto costa Dato che hai capelli di merda Comunque non so quanto costa cosa Però proviamo magari a scioppare qualcosina Ho un deck molto semplice Perché comunque se ne inizio Ho provato a fare qualche partita E mi sto davvero divertendo un sacco Quindi ho un Bulbasaur Un Charmed Un Squirtle Senta il starter normale Poi c'è Rata Taraticate E poi un bellissimo Spearow Che poi Spearow Quello che lui fa nella pix Cioè il suo verso Che fa Spearow Comunque io direi Quasi quasi Perché mi sta facendo fare il tutorial No dai Mollami Non devo ditare niente Io rega Quasi quasi Tenterei Di subito di fare qualche partita Bella bella Tutti assieme Perché così vi faccio vedere anche Un po' come funziona Il gameplay di questo gioco Bellissimo Magari tengo il telefono un po' più in alto Perché mi vedete un pochino Mighi in webcam Non frozen What the fuck Comunque allora Qua ci fa fare tipo la scelta Di chi deve partire per primo Intanto lui è giapponese Tan 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 Perché comunque Ho scaricato la pick up Perché non c'è ancora Sullo store Però comunque è legale Giocarci Perché comunque è ufficiale Allora Come vedete questa qua È la scacchiera iniziale E noi dobbiamo cercare di arrivare Dove c'è il suo triangolino Quello rosso O arancione Non so come potete chiamarlo E ogni nostro pokemon Ha un movimento Ne abbiamo un tempo Quindi io di solito parto E metto sempre il buon Charmander Possibile Perché così Indichiamo che noi Andiamo verso il suo triangolo Lui con un magnemite Dovrebbe essere Avanza Noi andiamo direttamente Sul triangolo Cioè se facciamo un'altra mossa Se lui non ci blocca I due lati Vedi Lui è molto lato Perché ci ha bloccato i due lati In questo caso Io devo fare una scelta Se attaccare il suo bidrill Oppure muovermi Cercando di andare Da un altro lato Per esempio Io seleziono Charmander E mi chiede Da che lato voglio andare Per esempio Quale cerchio voglio occupare Se nel caso Indetergiassi Vuol dire che Magari gli dimostri Che ho paura Invece io voglio andare Nello scontro Con il suo bellissimo bidrill Adesso c'è questa ruota Che io premo a caso Cerco di fermare E lui Rega Ha missato l'attacco E gli ho fatto Un attacco di 10 Quindi ho vinto lo scontro E lui Ora è andato avanti Con Pinsir Adesso Un altro scontro Vediamo un attimo Ha missato E io ho fatto L'attacco più forte Quindi rega Lui sta failando tantissimo E io tecnicamente Ora posso muovermi Messo il suo cerchio E vincere la partita Tanta roba rega Questa è stata una bella vittoria Questa è stata Lo scontro più combattuto Che abbia fatto Fino adesso In questo gioco Ve lo giuro Non perché sto registrando Ma perché È proprio così Io spero di non missare Nessun tipo di registrazione Perché mi verrebbe l'altro Comunque Abbiamo vinto Il nostro primo scontro Non so Mi sa che ho avanzato di lega Ho avanzato di lega Probabilmente Sì Va bene allora Però ho comunque Un deck di merda Ho 7 messaggi Ok rega Poi qua mi dice Login bonus Cioè ogni volta Che noi loginiamo Tipo una volta al giorno Ci da tipo delle gemme Quindi questa cosa qua È davvero molto Molto comoda Poi daily mission Ah ok Ci sono delle missioni Giornaliere A quale due Metal si Non so cosa serva Ecco È molto figo Perché si può giocare Anche online Quindi è davvero Molto Ma molto competitivo Io mi sto divertendo Molto di più Rispetto a Clash Royale Mi raccomando Asciate un bel like Se supportate questa serie E soprattutto rega Non porto più Clash Qualcuno mi ha chiesto Perché non porto più Clash Perché ho perso l'account Questo è un bel dilemma Sto giocando contro lane Che mi assomiglia molto Parto io per primo Quindi io ho 1380 coppe Se così si possono definire Non so come definire Inizialmente Però comunque Anche di grafica Credo che sia un gioco Davvero molto figo Io ora Partirei sempre con Lo so Charmander Farei sempre la solita mossa Cioè prenderei Charmander E avanzerei di 3 Subito qua davanti Per un attimino Lui ha una bella squadra Ai vi raga che figo Ma che io ricordi Anch'io ho un Eevee Da qualche parte Io avanzo aggressivo rega Avanzo ancora nella casella Questa qua centrale Perché lui adesso Mi deve per forza attaccare Se no io lo occupo subito Il triangolo Ma che cosa fai? Ma Ah lui mi ha attaccato Con Eevee Va bene Proviamola No 10 No Rega c'è un attacco Per 2 lui No mi ha ucciso Charmander Male Giochiamoci alla tattica Rega io piazzerei un Bulbasaur Un attimino qua in difesa Perché secondo me È tattico E qua ci potrebbe aiutare Lui sta avanzando tantissimo Con un sacco di Pokémon Rega quindi Con Squirtle Io mi metterei Quasi quasi Tattico Da questo lato Perché lui con Poli Potrebbe attaccarmi In questo momento Però se è tattico Lui occupa un altro Pokémon Infatti Lui è molto bravo Rega Io ho un Pokémon In meno di lui Però mi metto Un attimino qua In difesa Cercando di difendere Il nostro triangolino blu Perché nel caso Lui avanzasse Potrebbe essere Una cosa un po' sconveniente Io in questo momento qua Rega Attaccherei Il suo bellissimo Poli Ah no ma Se io avanzassi Verso il suo triangolo Allora Facciamo una cosa Ok Ok mi ha fatto selezionare Il Poliwag Comunque non sono ancora Bravino Ok Attacco Lui uccidiamo il Poliwag Sto comunque imparando anch'io Rega Una cosa un po' difficile Inizialmente Allora Ah Si può occupare Con una casella Il proprio triangolo Rega la proviamo Su Bellsprout Dai Proviamola Proviamola rega Proviamola Vediamo un attimino Se riusciamo a vincere Anche questo scontro Withdraw Eh pari Non ho capito cosa è successo Probabilmente lui ha utilizzato Un attacco Mi ha reso Lo scontro impari Cioè che non ci siamo fatti Niente tra di noi Ho messo un ratatata in difesa Intanto io qua Riprovo l'attacco Su Bellsprout Rega Proviamola ancora 30 contro switch Cosa è successo Lui sta muovendo Eevee Va bene Io ti piazzo qua uno spiro Difendiamoci un attimino Rega Posso provare di attaccare No Ok Facciamo così Spiro contro Eevee Rega Questo è un bello scontro Mi piacciono troppo a me Ste cose No l'ho missato No l'ho missato Rega L'ho missato Male male Lui si sta avvicinando a noi Occhio Ah lui è indietreggiato Io mi metto qua Un ratatata in difesa del triangolo Lui è andato avanti con Drosi Io ti attacco ancora a Bellsprout Vediamo un attimino Se con il buon Squirtle Sì Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ti tiriamo giù il Bellsprout No Ha messo Ekans Non sapevo sta cosa Pensavo di avanzare ancora un attimino Io Riproviamo lo scontro Ekans e Squirtle Dai che ce la si fa Sì che ha missato Sì che ha missato Ah no Che cosa è successo Squirtle Active Withdraw Ah ok Non gli ho fatto nessun attacco Riproviamola rega Ok 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 ho usato scudo Ho usato scudo Non mi ha fatto niente Wow Rega Wow Con i villi stai indietreggiando Stai indietreggiando Io voglio ancora attaccare rega Voglio prendere il suo triangolo Ora 30-20 Sì anche Ekans è andato Anche Ekans è andato rega Anche Ekans è andato Rega Rega si vince Rega si vince Sì che si vince così Mamma mia Toppissimo rega Tanta 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 roba Bello Questo scontro questo è davvero molto bello Rega È competitivissimo Ti fa divertire questo gioco Inizialmente anche Clash mi aveva preso così tanto Forse questo qua ancora di più Probabilmente Però davvero è divertentissimo Ve lo giuro Poi sta cosa che si può giocare online Perché il mio timore era come Yu-Gi-Oh! Duel Che si può solo giocare Diciamo contro il computer Invece questo qua è proprio online Da quanto ho capito Quindi tanta roba Riproviamo un ultimo scontro rega Perché comunque secondo me ci sarebbe Rifare un altro scontro Perché da quanto ho capito Abbiamo anche il tempo Noi Tipo che possiamo fare le mosse Entronto atti tempo Vediamo un attimino cosa possiamo fare A me dispiace che tipo guardo solamente Per terra Quando nella webcam magari mi vedete Guardo a terra È una cosa un po' brutta Allora vediamo Il first Chi è che è? Ah io Parto io per primo contro una ragazza Va bene Lui ha un po' di Pokémon strani Ci sta Allora Io partirei Con il solito Charmander Che ci ha abbandonato la partita prima Lui cosa fa? Vediamo Oppo in turn Frate Quando vuoi Ok Lui avanza con uno Che è quello? Mi sembra uno Star Mi sembra Io avanzo ancora con Charmander rega Vediamo un attimino lì Come si mette con Con i Pokémon Ha messo una carta attacco Ah Mi ci sta attaccando il Charmander Ah No ci sta attaccando il Charmander Va bene Vediamo No rega Ho ammissato Ha ammissato No ma aveva ammissato rega Ho visto io male O sembrava che avessi missato Quindi sta cosa qua Non va affatto bene Perché Allora Adesso Noi Cosa facciamo Allora Facciamo una cosa Prima di tutto Io metterei di qua Uno squirtolo in protezione Uno squirtolo in protezione Ci serve rega Comunque spero che voi Avete capito Come funziona Tutto quanto Il discorso Attacco difeso Queste cose Però C'è questo Geodude Che non mi piace per niente Quindi io muovo il Bulbasaur qua E muovo l'attacco Verso Geodude No l'ho ammissato Rega Rega Rischiamo di perderla Questa qua Rischiamo di perderla Perché adesso lui muove Non ha mosso il Geodude Io allora metto Metto un Raticate Qua Metto un Raticate qua rega Piazzerei uno Spiro Qua davanti rega Perché più Pokémon mettiamo Secondo me meglio è Perché adesso muoverà di sicuro Geodude Secondo me Mette in campo anche lui uno Spiro Va bene Qui ritorni i confronti No rega Ho liberato la storia per starli però Cosa ho fatto? Withdraw Ok mi son protetto Mi son protetto tecnicamente Bravo bravo Squirtle Che cazzo di mosse che c'hai fighe Bomba Meno male che ho dato Scudo Riproviamola Riproviamo questo attacco qua Nei confronti di Geodude Missato rega L'ho missato Che palle Che palle Questa cosa non va bene Mettiamo Charmander qua in protezione Un attimino Della nostra Dobbiamo difenderci Ora Ora che lui è scoperto Lui non è più scoperto No allora vediamo un attimino Noi abbiamo messo un Spiro Verso lui qua Lui deve indietreggiare per forza Vediamo cosa fa E infatti Infatti è indietreggiato E mi muovo ancora in avanti Allora Facciamo questo movimento qua Lui deve indietreggiare per forza Perché rega io Così lo distruggo Sì Sì rega Vinco io Vinco io No cosa c'è Suiza point to move Tu Qua Non posso muoverlo Cioè Perché mi hai fatto tornare indietro Non l'ho Non ho capito sta cosa rega Non l'ho capita per niente Ostiche rega Molto ostiche queste partite Qua Rattata non mi deludere 10 per Ma io non ci credo rega Ma c'hanno tutte le mosse incredibili Eeeh Cos'è sta roba C'ha un attacco Di 80 Ma è devastante Rega Devo imparare anche io Quindi non insultatemi Perché ti difendi bomber Non ha senso che tu ti difenda Ma io avanzo con squirtle In questo momento Ho un po' di attacchi di merda Nei miei pokemon rega Ah non è starly rega Ok non è starly Scusate il fail Eeeh rega male 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 Questo male male Perché lui ha una strada Verso il mio triangolo L'ho persa Ci sta Ci sta rega Ci sta comunque Vabbè ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto A me è divertito tantissimo rega Spero che Davvero Vi prenda come gioco Perché vorrei riportarlo Fatemi sapere nei commenti Cosa ne hai pensato E noi ci vediamo In un prossimo video Da Marche è tutto Bella